Salve amici, questo video è dedicato a voi, a tutti voi. Siamo arrivati in 10.000 iscritti. Il canale ha raggiunto 1.600.000 quasi visualizzazioni. Ricordo ancora quanto incominciai questa impresa. Inesperta, completamente inesperta. Io non ho nessuna conoscenza informatica e tantomeno di marketing. Però ho detto sì, voglio far sì che la mia conoscenza o almeno la mia eredità tramandata dalle mie bisnonne debbono raggiungere tutti. Ed aprì questo canale. Aprì questo canale appunto per divulgare quel qualcosa che io adesso faccio e ho raggiunto con la mia totale indipendenza. Perché loro sì, loro lo erano, loro erano sovrani, erano indipendenti. Io ringrazio voi per la fiducia e la stima a me riservata e condividiamo i video. Fate conoscere il canale a tutti, amici e parenti. Grazie, grazie a tutti. Vi voglio bene. Ciao. Ciao. Grazie.